Oggi parliamo di un autore che mi è particolarmente caro, che è proprio nella mia memoria di lettore da quasi tutta la vita, perché mi è stato passato, è qualcosa che ci tramandiamo in famiglia di padre e figlio. L'autore si chiama Jean-Louis Fabre, francese, è uno scienziato dal 1823 al 1915, l'asse temporale della sua esistenza, e nel sud della Francia Jean-Louis Fabre studia gli insetti, come dirà lui, non li studia dentro i laboratori, sezionandoli, aprendoli e sottoponendoli a torture e a reagenti chimici, no, li studia mentre vivono, dice mentre voi studiate la morte, dice agli scienziati dell'epoca, io studio la vita. E soprattutto Fabre che era autodidatta, che veniva da una famiglia poverissima e che quindi fa l'insegnante, fa il fisico, fa il botanico, ma in realtà ha nel cuore pulsante della sua produzione soprattutto gli studi entomologici, i studi degli insetti, Fabre in realtà fa un'operazione molto più complessa di quella che possiamo all'apparenza così recuperare dai suoi quaderni entomologici. Si tratta di dieci volumi, si tratta di un corpus piuttosto complesso, che è stato a più riprese pubblicato, pubblicato anche in Italia, e io ce l'ho in diverse edizioni, non è stato pubblicato nella sua interezza, mentre invece in Francia è oggetto di accurate edizioni e di studi molto attenti. Fabre ha intanto il merito di aver portato sul campo gli etologi che verranno poi nel Novecento in qualche modo vedono in Fabre l'iniziatore di quella pratica per cui si studiano gli animali da vivi nel loro ambiente, si studia l'istinto, lui sottolineava l'istinto. È stato ripubblicato, i ricordi di un entomologo sono stati ripubblicati, è un volume veramente consistente, è un volume pieno di fotografie, le fotografie venivano scattate dal figlio, stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento, la fine del Novecento, ci sono tantissimi disegni, prendeva tantissimi appunti, tantissimi disegni, bellissimo, bellissima la qualità letteraria, io normalmente recensisco libri di narrativa, la qualità letteraria di quest'opera, più che essere un'opera a carattere scientifico, è un'opera di divulgazione potentissima, alcune cose dal punto di vista scientifico sono state superate, Fabre doveva limitarsi, aveva un piccolo appestamento di terreno al sud della Francia, si metteva questo cappello per ripararsi dal sole e stava ore intere ad osservare gli scarabèi, mister corari o le vespe muratore, ma perché affascinano ancora queste pagine? Proprio per la qualità narrativa, perché fa bredento quel racconto lì che è la vita degli insetti, finisce per riflettere un percorso narrativo più complesso, in cui finiscono i sentimenti, le emozioni, i ricordi, in cui l'esperienza personale si mischia alla ricerca pioneristica scientifica. Bellissime, bellissime, ci sono diverse edizioni, c'è un'edizione in Audi che ricordo, nei millenni, curata da Giorgio Celli, curata e tradotta mi pare da Giorgio Celli, però questa edizione della Delphi, che è il primo volume credo di una serie che proporranno, non lo so, non sono nella testa dei responsabili editoriali della Delphi, però questo volume è potentissimo, questo volume è meraviglioso e ha la caratteristica che era di altri, pensate c'è Lawrence Citta, Conrad Lawrence, premio Nobel e grande padre dell'etologia, citta spesso il Brem, Brem era un altro zoologo tedesco che fa un'opera ciclopica, io ne ho un'edizione vecchissima del Brem, fa un'opera ciclopica su tutti gli animali, anche lì, se vi fermate a leggere, bellissime, la narrazione per cui, il racconto per cui, oltre a dare indicazioni di un incredibile percorso scientifico, non c'era un corpus così complesso, è dalla naturalistoria che comunque l'uomo cerca di, in qualche modo, di descrivere. Beh, questa dimensione ciclopedica della natura e degli animali, soprattutto in Brem diventa fantastica, non so, quando racconta la Iena, dice un animale vigliacco, ricordo che una volta in Egitto, tornando da una cena con amici, vediamo le Iene e è bastato gridare e la Iena in realtà scopriremo poi, nel corso dei decenni, che la Iena è tutt'altro che quell'animale lì che si pensava si nutrisse delle bestie ammazzate dal fortissimo leone, il leone viene descritto proprio come dal Brem, come il signore di tutta la savana. Scopriremo che gli equilibri sono diversi, più complessi e entreremo nel merito della parte proprio biologica, etologica, entreremo nel merito degli ecosistemi più avanti. Queste narrazioni qui, questa scienza qui, un po' come il viaggio del Beagle di Darwin, hanno una valenza letteraria potentissima, sono ad oggi qualcosa che possiamo leggere perdendoci un po' con quelle pagine, con l'emozione di un romanzo, io lo consiglio caldamente, sono i ricordi di un entomologo di Fabre, della Velfi, o delle Inaudi, o della, io ce l'avevo, della Vallecchi mi pare, ce l'aveva la prima edizione, del Corbaccio. Ciao.